Il protocollo per il lavoro nel Chianti, siglato per l'avvertenza del cementificio Testi di Greve, è diventato un possibile modello di gestione delle crisi sul territorio regionale toscano, i cui effetti si fanno sentire anche sul fronte del recupero del sito per altre attività industriali. Lo ha affermato Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente della regione Eugenio Gianni. Nel corso dell'incontro è intitolato La Forza della Dignità, promosso dalla Fillea CGL per fare il punto a due anni dall'inizio dell'avvertenza Testi. Noi volevamo e vogliamo e volevamo tutelare i lavoratori che rischiavano di perdere il posto di lavoro, ma anche dare una nuova vita industriale ad un sito importantissimo che era l'ultimo avamposto manifatturiero del Chianti. E da questo punto di vista, dalla firma del protocollo ad oggi, sono stati fatti dei passi in avanti. È stato incaricato un advisor che ha redatto un piano di fattibilità, sono arrivate le prime imprese, ci sono stati i primi sopralluoghi, adesso arriverà anche un advisor finanziario che avrà il compito di redigere un business plan. Insomma, è un percorso che va avanti sulla base di un principio. La responsabilità sociale dell'impresa, anche di un'impresa che cessa un'attività e che dichiara degli esuberi, si esercita innanzitutto con gli esuberi, cioè con i lavoratori su cui impatta in prima battuta quella scelta, ma anche occupandosi del futuro del sito che non può rimanere vuoto, abbandonato e dismesso. La Regione Toscana è stata parte attiva nel protocollo per istituzioni, sindacati e categorie per la ricollocazione dei 69 lavoratori del cementificio. Attualmente solo 20 di questi sono ancora in carico al centro per l'impiego.